Allora, la domanda più semplice è proprio, visto che si inizia il campionato, now we are beginning, what's your best sensation? Qual è la sensazione di Alex Blessing? I have to think about it because the training week was short but it was good. So, I have the feeling that the players are focused and they want to start in the season and we saw yesterday the game, Parma against Bari, really a good performance of Parma and you see a lot of infights and high intensity game and this... Ho visto una squadra molto attenda durante la settimana che non vede l'ora di iniziare il campionato, anche guardando la partita di ieri, dove sono visti tanti transizioni, tanti contrasti, partita molto, molto viva. And for sure having been a big game in front of us, tomorrow then Venezia a strong team, 13 players are coming back out of Covid, this is clear, so they have a full squad. Parlando di domani, la partita contro Venezia, contro una grande squadra che sono ritornati anche i 13 calciatori dal Covid sono rientrati, quindi hanno tutta la rosa a disposizione. So che hanno un allenatore nuovo, tanti giocatori nuovi, però ricordando la partita dell'anno scorso, che non siamo mai entrati in partita, soprattutto nel primo tempo. Ci saranno tanti contrasti, tante seconde palle da vincere. Sì, sicuramente ci saranno più lunghi, soprattutto vedendo il campo a Venezia, quindi bisogna farci trovare pronti, posizionarsi bene per soprattutto recuperare poi le seconde palle. And for sure, some really good players, like Tesman, like Busio, when they are coming back, or Johansen in this moment. So, quality in the game, in the squad, and so we have to reach our maximum tomorrow to get the next step. Per raggiungere il nostro massimo per poi fare il prossimo passo in avanti. Se mi hai chiesto, dopo la partita della Coppa Italia, che siamo arrivati un più o meno al 60%, per domani abbiamo bisogno di più, chiaramente. Luiz Ben! Luiz Ben! Luiz Ben! Luiz Ben! Luiz Ben! Io le faccio un'altra domanda. Quest'anno il Genoa ha un obiettivo dichiarato importante, sta per iniziare un campionato che sarà complicato. Le chiedo, partire comunque con la pressione anche in qualche modo, insomma, di dover fare un campionato di vertici per tornare subito in Serie A, vi crea insomma qualche difficoltà? Questa pressione andrà gestita anche quella nel corso dell'anno? Questo mi puoi chiederti dopo la prima parte della settimana, per capire come gestiamo la pressione. Questo è un stile che vogliamo giocare e sono assolutamente convincente della situazione quando giochiamo il nostro stile che vengono molti gioco. Per sicuramente, in alcuni gioco ci vuole anche un pizzico di fortuna. Ma questo pizzico di fortuna arriva se tu lavori, dai tanto. Sarà una stagione lunga, iniziamo da domani. Sarà un percorso lungo, con alti e bassi, e bisogna farsi trovare preparati in questi casi. Per essere chiari per ogni avversario contro noi, vogliono fare la partita della vita. L'avversario è una partita importante, giocare al Ferraris e giocare contro di noi. Ci vogliono stressare, vogliono vincere contro di noi, ognuno vuole fare la partita della vita contro di noi. Buongiorno mister, vi volevo chiedere molto brevemente le condizioni di storare Diggs, anche quando si potranno recuperare. Era una curiosità. Ilze è tornato in gruppo da una settimana, è un mostro. È molto importante per noi, perché è la mentalità giusta da vincitore. Sturro è sulla buona strada, però ha bisogno di più tempo. Non voglio mettere pressione su di lui. Non voglio mettere pressione su di lui. Dopo la partita della Coppa Italia, ero molto arrabbiato con la difesa. In settimana avete lavorato su questo? Dopo la Coppa Italia, ero molto arrabbiato, ma penso che la partita della Venezia sono molto contenta. alla partita della Coppa Italia, alla prima partita della Coppa Italia, quindi sono felice che la season si inizia, ma abbiamo lavorato su questi problemi, sicuramente. Sì, ci abbiamo lavorato in settimana, però non vediamo l'ora di iniziare adesso domani il campionato. E sicuramente, tutti sappiamo che abbiamo un calendario forte sui primi sei partite, sui primi sei partite, sui primi sei partite. E dopo queste partite, vediamo a che punto siamo. Però siamo preparati e abbiamo tanta fame. Vediamo cosa esce fuori domani. Però sono contento, dopo un periodo precampionato lungo, di iniziare la stagione domani. Non solo parliamo di parlare come abbiamo concesso quei gol, ma anche di migliorare in campo. del comportamento difensivo, come difendere le palle inattive. Ne abbiamo parlato e lì c'è da migliorare, fare il prossimo step in avanti, per non subire più tanti gol. o meno gol. Sì. Contro il Benevento, Pajaz era squalificato. Domani sarà invece al suo posto? O le è piaciuta la prova di Sabelli? Chi sarà il portiere? Sabi ha molto mentalità e molto contento della prestazione di Sabelli in Coppa Italia. Sto parlando del profilo di un terzino, che riesco a avere un mancino in quella posizione lì. Questi sono i pensieri che ho attualmente, perché Sabi fa un buon lavoro e poi è a volte difficile fare cambiamenti. Quando hai giocato bene, ma è sempre difficile fare cambiamenti, ma non è totalmente chiaro. Però in mente queste due opzioni non sono ancora chiaro. Ho visto una buona prestazione. Sì, ho visto una buona prestazione. E il portiere è sempre molto difficile per una decisione. Quindi normalmente non lo fa, non lo fa come cambiare dopo un gioco. E la prestazione di Martinez era buona. Ho visto una buona prestazione di Martinez, quindi è una posizione molto delicata, per questo non c'è necessità di cambiare il portiere.